Studia, studia, ignorante, studia! Mi dicono così, cioè quando parlo dell'ecrito e magari vado a sollevare delle questioni di te, c'è sempre qualche giovane e simpatico ragazzo che mi dice studia, non sai niente! E mi manda il link a un video di un altro simpatico ragazzo pieno di energia che racconta quanti soldi si possono fare, il futuro, abbasso le banche, viva la libertà finanziaria, oggi c'è la blockchain, l'NFT con cui fai tutto e cosa fai? E ti racconta sempre gli stessi esempi, la palestra con gli NFT che fa gli abbonamenti. E la palestra con gli NFT le poteva fare anche prima gli abbonamenti. Eh ma adesso li può prendere chiunque, cioè vuoi dire che quindi un altro vende a un man boom e mi sembra che queste cose si possano fare lo stesso. No, perché quando prendi l'NFT c'è tutti i vantaggi collegati, c'è questa cosa, ma non è per, cioè potevi dargli lo stesso e i vantaggi collegati. Semplicemente, cari amici, se dava normalmente una roba a questi venditori, dicono vendo a 200 euro quest'affare con tutto il pacchetto, non ne ho comprava nessuno. Ora c'è lo storytelling del diventeranno, diventerà il futuro, dovete entrarci adesso se non rimarrete fuori. No, c'è tutta questa storia qua. E ovviamente è fatta, alcuni poverini ci credono veramente, nel senso che hanno talmente poche basi che scatta l'effetto Dunning-Kruger per cui hanno guardato tre video e sono convinti di sapere un mucchio di roba di questo mondo. In realtà non ne sanno un granché, cioè continuano a raccontare, sono ragazzi che se venissero a un mio esame all'università non lo passerebbero, no? Perché gli farei tre domande su un protocollo e quelli direbbero, aspetta non lo so tantissimo. Pensate che una delle domande che faccio spesso ai miei studenti, e gli avviso anche dall'inizio corso, è che i numeri sono importanti perché ti danno l'idea della percezione, soprattutto se studi comunicazione digitale o altre verticalità. Quindi dico, quante persone ci sono su internet in questo momento? E a volte molto spesso non lo sanno, oppure qual è la differenza tra web e internet? Cioè, ecco, come dire? No, queste piccole domande a volte che sono da elementare, non proprio elementari, non riescono a rispondere. E sono gli stessi che ti dicono, studia! All'altro dici, dov'è che devo studiare? Sul video di uno come te che racconta babababam. Allora, se uno dice, voglio veramente studiare, dove lo devo mandare questo qua? Dove bisogna andare? Bisogna andare su cose che sono un po' noiosi, ma a quello che bisogna studiare, se vuoi conoscere questo mondo. Cioè, se parli di NFT, ti devi studiare il protocollo, cioè il protocollo, lo standard RC721 o l'1150. Cioè, te li devi studiare, devi sapere cosa c'è dentro. Non puoi dire perché ti porti a casa un oggetto unico, in realtà ti porti a casa un token unico, perché l'oggetto non è lì dentro, è fuori, lo possono cambiare. Oggi è un'immaginatina di una scementina, domani diventa una cacchina e c'è uno che ha fatto questo esperimento. Blockchain. No, perché la blockchain? Molto spesso chi parla di blockchain non conosce le caratteristiche dei database tradizionali, che molto spesso fanno esattamente quello che dicono loro. Sì, però è decentralizzato, come se la decentralizzazione fosse la soluzione a tutto. Peraltro, by the way, la maggior parte delle piattaforme decentralizzate, in realtà non sono decentralizzate. Se io, vi faccio un esempio, se io compro un NFT su OpenSea e poi si scopre, e di là c'è un portafoglio di Metamask, Metamask interroga Etherscan, ok? Per vedere dove sta il mio NFT. E se OpenSea fa shutdown, lo takedown del mio NFT, perché decide che ha violato un copyright, cioè un pacco di NFT stanno violando il copyright. E io continuo a vedere su Metamask, ma là non c'è più. Cioè, per dirvi che la blockchain è decentralizzata solo quando te ne vai a manina, dentro Etherscan, sì, ma potrebbe sbagliare pure lui, non sbaglia, ma potrebbe sbagliare pure lui. Quindi a manina, proprio dentro il tuo wallet, e ti vai a vedere tutte le transazioni, una per una. Solo che quando vedono i numeroni lunghi, sono complicati da leggere, capito? Però per capire questo mondo bisogna partire da lì. Cioè, uno non può dire, io sono un architetto, io penso di essere uno in grado di costruire una città perché hai visto delle belle foto di città e ti hanno detto che le città saranno il futuro e allora le disegni, perché crollano, ci vogliono gli architetti, ci vogliono gli ingegneri, capito? E siccome in questa materia non esiste l'equivalente dell'architetto e dell'ingegnere, sì, c'è la laurea in comunicazione digitale, figurati, anch'io sono stato il primo a fare tutta una serie di corsi nelle varie università, il primo corso di comunicazione digitale è stato fatto io, il primo corso di comunicazione digitale all'Ulm l'ho portato io, oggi fanno solo digitale, il primo corso di comunicazione digitale all'Università di Pavia l'ho portato io anche lì all'inizio. Cioè, non è che sono contro la comunicazione digitale, ci mancano i laureati in quello. Però, come dire, è una materia un po' più aleatoria perché mette insieme dei pezzi. Allora, pensate, siamo in un momento in cui la gente che, poverina, magari fa tutt'altro mestiere avvita viti e, con tutto rispetto, io avvito un casino di viti, peraltro. Però, dico, non mi metto a discutere con i, quando avvito le viti, con i virologi e quindi immaginate, che hanno una laurea specifica, molto verticale, immaginate che cosa succede in questo settore. Un delirio totale. E quindi, capito, diventa... Per cui, quando studia, quando ti dicono studia, dovete andare sui MOOC, quindi M-O-O-C, li trovate un po' l'apertutto, MOOC.org, ce n'è uno bellissimo, appunto, del Politecnico di Milano, e andate a studiare la blockchain. Cos'è? Date vedere. Spesso bisogna parlare in inglese. Ragazzi, anche perché uno dice, scusa, già se non parli inglese, devi essere uno che cerca di capire, perché qualsiasi cosa ti raccontano è stata tradotta da qualcuno, perché questo mondo, purtroppo, vive in inglese. Nasce in inglese e vive, da ogni punto di vista, in inglese. Quindi, quella è la lingua di questo mondo. Già se non capisci quella, non hai capito niente di questo mondo, perché è difficilissimo comprenderlo senza conoscere l'inglese. Dopo di che, ti fai un bel corso di come funzionano, come dire, tutto il mondo, non so, degli hash, che cos'è, come funziona, come funziona il mondo della blockchain, con tutti i vari token, la proof of work, bla, 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 tutte queste cose, esattamente come funziona, fai dei test, crei delle piccole applicazioni per vedere come l'esame, che l'hai capito, idem con gli altri standard, tipo, che ne so, appunto, quello degli NFT, eccetera. Cioè, incominci a capire quello. Poi ti fai un po' di storia vera, storia dei social network, storia dei database, studi cos'è un database, fai qualche esempio, qualche test. Poi ti studi tutto quel mondo lì, dal punto di vista sia della letteratura, di quel mondo, sia dal punto di vista tecnico, e alla fine si può dire che hai studiato. Altrimenti studia! Significa andare a vedere un video, come dire, pieno di entusiasmo e di energia, di un ragazzo che è spuntato oggi nel mondo, si guarda intorno e fa, oh, oh, che bello questo futuro, dove saranno tutti ricchi, grazie alla blockchain, agli NFT, alle cripto. E lui, poverino, non è un truffatore, è un truffato. Cioè, difende questo mondo perché lo reputa il suo futuro, ma in realtà è uno dei truffati, e li truffati da quelli invece furbacchioni, che saranno benissimo che quando vendono quei cosi di là, o scapperanno con i soldi, oppure non scappano neanche più, perché se io ti ho venduto l'NFT delle mie puzzette, e tu lo compri, cioè, come fai a dire che io sono un truffatore? E dopo rimani con le puzzette, fai, oh, porca miseria, ma erano puzzette? Eh, sì, amico mio, ma io te l'avevo detto, e tu fai, eh già, in effetti, e te ne vai con le puzzette. Cioè, per cui, a volte non è manco colpa loro, no? A volte è, però io cerco un po' di aprire gli occhi, perché ho questa missione, che non riesco a togliermi da addosso, ormai comincio a essere un po' anzianottino, e non è che mi metto adesso di colpo a cambiare missione, quindi è sempre stata quella di aiutare le persone a capire, di aiutare le persone a non farsi fregare, eccetera, ed ecco perché studia! Ogni tanto spuntano, no? Allora le chiedono il video, spuntano, cioè, tu sai di che parli, dici, allora, perché volevo spiegarti che in realtà il protocollo dell'NFT di cui tu sostieni studia! Ignorante! Boomer contro il futuro! Anche internet una volta, sì, solo che quando io ho fatto quelle cose lì, tu non eri ancora nato, e ci ho creduto talmente tanto, così come ci sto accardendo adesso, da difendere, mi è suonato il campanello, per cui chiudiamo qui la live, che non è una live, studia! Vado a studiare il campanello.